Una domanda che facciamo spesso ai docenti che intervistiamo è cosa ne pensano dell'attuale composizione dell'insegnamento dei corsi di economia universitari, ovvero secondo lei, professor Ciancini, è utile inserire nei corsi di insegnamento posizioni di pensiero critico e di pensiero interdosso oltre alle posizioni classiche, neoclassiche che vengono insegnate. In Svizzera vengono insegnate principalmente scuole di pensiero neoclassiche, come abbiamo riscontrato in Italia, è diverso e che cosa ha da dirci su questi argomenti? In Svizzera non è fondamentalmente diverso, la teoria dominante è indubbiamente la teoria neoclassica, ma in Svizzera come l'Italia, il problema vero non è questo, la pluralità degli insegnamenti o migliori, il problema vero secondo me è quello della correttezza di ciò che viene insegnato, abbiamo la teoria, se la teoria neoclassica fosse corretta, benissimo, insegniamo la teoria neoclassica, ma la teoria neoclassica, non solo secondo la nostra analisi, ma secondo i fatti, basta osservare quello che sta succedendo, non è in caso di rispondere a nessuna delle domande alle quali gli economisti dovrebbero poter rispondere, moltiplicare gli approcci non serve a niente, dire vabbè noi siamo più bravi perché oltre insegnare l'economia neoclassica ne siamo altri, sì va bene, la pluralità di vedute è sempre interessante, ma bisognerebbe fare molto di più, in realtà l'università, gli economisti, gli accademici non stanno facendo secondo me quello che dovrebbero fare, molti di loro, non sanno dare risposte ai problemi di oggi, la teoria va rivista fondamentalmente, oggi si costruiscono modelli, basta, modelli matematici, come se si fosse ormai scoperto tutto in economia, come se sapessimo ormai tutto, e si trattasse solo di affinare gli strumenti essenzialmente matematici, non è vero, i modelli non riescono a rappresentare una realtà che è comunque troppo complessa per essere rappresentata sulla carta, ed è il fallimento degli economisti, questi anni sono il fallimento degli economisti, non sanno dare risposte chiare, concrete a quello che sta succedendo, c'è una crisi devastante e non hanno risposte, dunque sarebbe importante non solo aprirsi ad altri insegnamenti, il problema non è sostituire una visione così monolitica con un'altra, il problema vero è quello di dare risposte vere, di ritornare ai problemi fondamentali che ancora sono disordati. Grazie a tutti!